... Mi commuovo, è una persona che rispettava tutto e non aveva fastidio a nessuno. Un libro l'accettava, ma per il resto non l'altro. Era una persona squisita, lui non si approfittava di niente. Qui comprava i libri, tante volte gli dicevo prendilo, poi me lo riporti, no? Invece lui niente, pagava tutto, faceva un pochino di sconto, sì, senz'altro, però una persona proprio buona. Mi aiutava la sera a tirare giù le serande, sempre si prestava molto, sì. Stava sempre a cantare, cantava tutto pomeriggio. Dormiva qui, noi offrivamo gentilmente il giaciglio qua sotto al nostro bar. Cosa ci dicevamo? A parte era un cliente, quindi veniva a fare colazione tutti i giorni. Cosa mi voleva dire? Tutto quello che... come stava, come non stava. Era sempre sorridente, sempre contento, sempre... Lui tutti i giorni leggeva, lui tutti, tutti, tutti i giorni, era molto colto. Comunque una persona dal cuore grande. Molto grande, se poteva aiutare qualcuno, aiutava. È brutto, questa non è più una città come la conoscevo io tanti anni fa. È diventata brutta, cattiva. Alla guida si trasformano tutti. È brutto proprio. Nereo era diventato una presenza, diciamo, fissa della parrocchia. Lui era lì, tranquillo, col suo cane, gli piaceva molto leggere, quindi stava addossato al muro a seconda di come girava o il sole o il vento, in modo da stare riparato.